Se vuoi alzarti o abbassarti la W e A, così ti ho alzato un po', mi piace di un altro livello, però sempre con le frecce. Quindi è meglio di potersi guardare intorno. Eh sì, sicuramente è tutto l'altra cosa. Non va la simulazione? Sì, sono stato andato. Non erano ancora in macchina. Sì, sono stati robot. A vedere i robot fissi.